Per gli amanti degli sfondi neri, oggi ho provato due tipologie di matite, due marche. La Stadler, Stetler e la Faber-Castell. Faber-Castell. Cari amici tedeschi, ascoltate questo video senza audio. A volte ci piacerebbe ottenere quasi un nero molto molto profondo e dobbiamo ricorrere spesso e volentieri al carboncino, sporcando tutto eppur avendo poca precisione. Queste sono le matite adatte per creare degli sfondi molto intensi, anche disegni. Però in questo video mi concentrerò sullo sfondo, perché è una domanda che mi viene posta spesso e volentieri. Come faccio ad ottenere uno sfondo completamente nero? Sì, ma guarda come è scritto l'Humograph con la F. Io non lo so. Mettiamo subito a diretto confronto questi due cofanetti di matite. Mentre le Faber-Castell partono dalla 2B, le Lumograph partono dall'HB. Quindi, comparando le scale, parto da loro, dalle Lumograph. Vediamo subito. Per ogni matita eseguirò tre stratificazioni, tre tratti incrociati, così cerco di ottenere quasi da subito la profondità, il nero, l'oscurità. Oggi mi balla il tavolo, ma in realtà è perché sto spingendo molto forte. Oltre al fatto che la percentuale di carbone che hanno inserito all'interno si sente nell'attrito che si crea tra matita e carta. Il carbone scivola meno rispetto alla graffite. Per me è una scoperta. Non l'avevo mai provata e adesso sono curiosa di sapere come invece si comporterà la Faber-Castell. Ma devo aspettare ancora un po' perché la cabina del Faber-Castell non esiste. Quindi continuo con le Lumograph e questa volta passiamo alla 2B. Quindi più che una matita mi sembra una matita colorata, come se stessi utilizzando il nero. Un po' la sensazione è quella. La capacità di copertura è indubbiamente molto molto elevata. E adesso passiamo alla 2B della concorrenza, che tra l'altro questo astuccio è una novità mondiale. Se voi andate nel sito e lo cercate, vedrete che c'è scritto proprio novità mondiale. Non so quando sia uscito, ma l'ho comprato perché non potevo farmelo sfuggire. Questa ha sensazione che è più simile alle matite che siamo soliti utilizzare. Scorre molto velocemente su carta come una normalissima matita. Non è nera come la Lumograph. Mantiene la caratteristica tipica del colore grigio della graffite. Eh, questa è proprio una bella sfida. Ma andiamo avanti, vediamo come si comportano le matite di gradazione superiore, quindi quelle, tra virgolette, più morbide. E qua, per la nostra squadra di sinistra, scende in campo la 4B. Quindi si passa dalla 2B alla 4B. Eseguo i tre soliti strati incrociati. Se vuoi ti tengo fermo il tavolo. E qua, dalla 4B comincia proprio a notarsi l'effetto nero black promesso da queste Mars Lumograph. E allora vediamo come risponde la corrispettiva della Faber-Castell 4B. E anche qui, già con un solo primo strato, si ottiene un bel buio. E continuiamo con il secondo e poi il terzo. L'effetto per me è molto wow, anche a sensazione. E voglio vedere dove mi portano queste matite, perché siamo solamente alla 4B. Sono molto curiosa quando arriveremo alla 12B. Però procediamo con calma. Adesso scende in campo la 6B. E l'attrito salendo diventa sempre più forte. La sensazione è un po' quella del gesso sulla lavagna. Ovvero, cerco di far scorrere in maniera fluida il tratto, però si sente un forte, fortissimo grip. Come se si incagliasse un pochino, come se inciampasse un po' sulla carta. Vediamo un po' se questo avviene anche con la 6B della Faber-Castell. No, la matita scorre in maniera più fluida. Si capisce che questi due marchi hanno preso due strade differenti. Nelle luminograph è stato aggiunto del carbone. Nelle Faber-Castell mi viene da dire molto probabilmente no. E ora è il momento di testare la 7B, che non è presente nell'astuccio di destra. La trovi solamente nella confezione Stadler. Stadler! Scusa, mi è scappata la traduzione automatica. Qui sta tremando tutto perché, come avrei visto, con tutte e due le tipologie di matite riesco a ottenere dei neri profondi fin da subito. E quindi spingo la matita contro la carta, in modo tale che si vadano a riempire tutti i pori. Cosa che non potrei fare invece con altre tipologie di matite, sempre morbide. Se spingo da subito, infatti, con altre matite, sempre morbide, 8B, 9B, si può verificare l'effetto lucido tipico della grafite. E addirittura potrei avere anche difficoltà a stratificare, perché a un certo punto la punta potrebbe pattinare letteralmente, non riuscire più a penetrare sopra quello strato lucido tipico della grafite, che quasi forma uno specchio, una superficie non più penetrabile. Con queste matite non accade. E nel mentre siamo già arrivati alla 8B, compariamo questa, anche se ormai parlare di comparazione mi sembra un po' strano. Sono due prodotti differenti. I tratti, come nelle altre gradazioni, riescono ad essere molto fluidi, molto precisi. La mano scorre in maniera naturale. Devo dire che con le Luminograph, insisto su questo fatto, invece, devo fare un po' più di forza. E passiamo alla 10B, che non è presente nell'astuccio di sinistra, ma in quello di destra, sì. Nero quasi da subito, graffite molto compatta, l'attrito giusto, forse comincio a essere un pochino di parte. A mio parere, la sensazione proprio, mentre disegno, è fantastica. È come se disegnassi il velluto. Diciamo che, a sinistra, con le Luminograph, ho questo effetto duro, forte, forte attrito. A destra, invece, la mano scorre fluida e in maniera morbida. Io comunque stringerei le viti del tuo tavolo. Non lo vedo proprio messo bene. E adesso rimane l'ultima prova. Che cosa succede in controluce? Queste matite sono veramente ultra matte, sono veramente black. Andiamo a vedere. Sembrerebbe mediamente di sì. La vera prova del 9 è comparare una stessa marca con la stessa gradazione. Per esempio, ho un astuccio della Faber-Castell di matite classiche e vado a prendere la 8B e la mettiamo a confronto. Eccoci qua, quindi sto utilizzando una 8B della stessa marca. Ho disegnato con una matita di queste 12 del mio set di matite classiche che non hanno la pretesa di essere matte, opache. E quindi vediamo se, effettivamente, a confronto si vede la differenza. Me ne sono già accorta mentre stavo disegnando il quadratino. Però adesso, in controluce, possiamo apprezzare ulteriormente la differenza. È notevole. Con il vecchio set classico, il mio bellissimo e amatissimo set, l'8B tira fuori l'effetto specchio di cui ti parlavo prima, quindi l'effetto lucido. Mentre nell'astuccio nuovo, la 8B è sicuramente matte. Sicuramente mi riuscirà a dare dei neri molto più intensi e profondi. La preferenza tra un set e l'altro è puramente personale. Intanto io sono molto contenta di queste due mie nuove new entry. Di tutte e due, sia per un verso, sia che per l'altro. Se ancora hai dei dubbi su quale scegliere, nel caso anche tu non li volessi comprare tutti e due, ti faccio vedere un fondo che ho disegnato utilizzando da un lato le luminograph e da un lato invece le Faber-Castell. Quindi avrai modo di poter valutare in maniera ancora più oggettiva. Guarda, ti faccio vedere anche l'effetto sotto la luce del sole. A sinistra il nero intenso black delle luminograph, a destra l'effetto nero intenso ma con il sapore della grafite. Per i fondi neri intensi si sono sempre utilizzati degli spedienti o dei trucchetti che fanno parte poi del nostro mestiere del disegnare. Con questi due set, o uno o l'altro, ora avrai la possibilità di concludere la tua opera senza bisogno di altro. Come sempre, fammi sapere la tua nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Ciao!